In merito all'interrogazione presentata da alcuni consiglieri comunali sulla dotazione al villaggio Santa Barbara di un defibrillatore e di un'ambulanza, il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo rende noto che entro il 28 settembre saranno posizionati tre nuovi defibrillatori semi-automatici in altrettanti quartieri della città. Ad installare le attrezzature nei quartieri Santa Barbara, Balate Pinzelli e San Luca sarà la Croce Rossa italiana, che in convenzione con il comune di Caltanissetta cura la formazione del personale, anche non sanitario, che deve eseguire un corso obbligatorio per il loro utilizzo. La collocazione dei nuovi defibrillatori si inserisce nel progetto pianificato dall'assessore con delega alla sanità Carlo Campione per Caltanissetta Città Cardioprotetta, nell'ambito del quale è stata già realizzata l'intera copertura delle scuole di competenza comunale, compresi i due plessi del quartiere Santa Barbara. I defibrillatori sono attivi anche in tutti gli impianti sportivi comunali.